Ciao a tutti ragazzi, qui è Brillo87 che vi parla e quella che vediamo inquadrata adesso è la macchina di Franklin tutta pompata pompata Bene, per oggi noi non siamo con Franklin, siamo con Michael Dato che Michael è un personaggio un poco, diciamo, scrauso, non ci limitiamo a usare lui Ma bensì, tutti e tre i nostri tizi, i nostri cari amici di GTA V E attenzione, non siamo in missione, siamo tutti in free mode Poi, casomai, in un video vi spiegherò come sbloccare la macchina di Franklin O comunque, qualunque altro tipo di macchina personalizzata con ogni personaggio Non mi secca, perché comunque è una cosa lunga e si spendono anche un po' di soldini Ma è il minimo, bene, in questo, diciamo, cazzeggio proveremo a prendere il trofeo Tre uomini, un esercito Ovvero, bisogna sopravvivere a tre stelle di sospetto Per non mi ricordo quanti minuti Con tutti e tre i personaggi in contemporanea Senza, cioè, non in missione In free mode, diciamo così Quindi noi adesso ci mettiamo Spacchiamo tutto Quindi più che un cazzeggio sarà un massacro di polizia che voi neanche vi immaginate Ci proviamo, eh Non siamo ancora neanche a una stella Buttiamo granate, così saliamo di livello Di sospetto Ecco qua, siamo già ad una stella Questa missione, questo trofeo conviene farlo con Franklin Perché comunque lui ha il potere della macchina Scappate rapida dalla polizia da tre stelle Però non lo dobbiamo fare con Michael Perché abbiamo già fatto sia un gameplay Con Trevor nei panni di Giuseppe Simone E Papa Franklin Intanto vedete i mitragliatori che spuntano Ah, siamo già a tre stelle Bene, noi adesso dobbiamo solo resistere Quindi noi scappiamo un po' Cerchiamo di non salire di stelle Perché mi sa che poi dopo le tre stelle non mi dà niente Quindi scappiamo, scappiamo Distruggiamo un po' di macchine Così via, arrivederci Cerchiamo di non salire troppo di sospetto Io direi di scendere dalle macchine in un posto strategico E spaccare tutto Direi, eh Non lo so Intanto mi arrivano messaggi Controlliamo un secondo Cos'è? Andranno qua Devo solo sopravviare Non c'è un lavoro che sparano Quindi Diciamo che questo fatto è una goduria Spacchiamo tutto Mi stanno un po' sparando Sono un po' circondato Noi giriamo l'angolo Ma se tipo scendiamo No, però se tipo scendiamo Poi possono salire le stelle Se ammazziamo tutti Non è so Spacchiamo di prendere il trofeo intanto Se no facciamo che tipo Pretaglio Prendo il trofeo E poi continuiamo col cazzeggio Bene, il trofeo è sbloccato Dopo ve lo farò vedere Adesso Fino alla morte ragazzi Fino Alla Morte Sto cazzo di Michael Non ho manco tante armi Il problema Di questa Di questa modalità Con tutti e tre i personaggi E che purtroppo Non si può Switchare tra i personaggi Però comunque È un gran massacro Purtroppo vorrei switchare su Trevor Per finire Alla meglio Il massacro Però non si può Oh, siamo a quattro stelle Sto morendo Aspetta un attimo Salite in macchina Che proviamo la fuga Dai proviamo la fuga Che siamo a quattro stelle No Porco cazzo Mo' mi arriveranno I messaggi Tipo di Trevor E Michael Che mi dico Sei un coglione Sei morto Come hanno Più spesso fatto Quando ho provato A fare sto video Diciamo che in altri video Morivo subito Oppure superavo Le quattro stelle Mo' Se superavo le quattro stelle Sono morto Vediamo come va Mi arriveranno I messaggi Minatori Di Michael E Franklin Ci ho provato Ti infatti Ho pure pagato 5.000 Di tangente ospedaliera Ecco Ecco Trevor Che comincia E che ci vuole Per ammazzarti Tua nonna Ci vuole Franklin Se mandi uno all'ospedale Perlomeno Pagagli la Vabbè pure Ah no Questo è quello Del fatto della macchina Bene Questo video È uscito un po' corto Cioè non pensavo Di morire subito Dopo il cut Diciamo che Noi ci facciamo Un po' di cazzeggio Così dai Un po' di cazzeggio Veloce Stop Non sono ricercato Che cazzo vuoi Scendi Coglione Diciamo che Switchiamo su Trevor Che è più divertente Dai Switch Ok Andiamo su Trevor Che almeno Capace che lo troveremo In qualche situazione Strana No mi sa di no Facciamo Una violenza Alluginante Con Trevor Quando lui le armi Ce le ha tutte Quindi non dovrà avere problemi Ecco Trevor Che sta cercando Un cibo Avevo Conciato Trevor In questa maniera Perché volevo fare Un video Specifico Infatti Non so se lo riconoscete È tipo Non mi ricordo Questa è la macchina di Trevor Che ho modificato io Con le corna Tipo Non dire per watch O chiamo la polizia Che ha detto E quindi sarebbe tipo Non mi ricordo il nome Di quest'altro Famoso personaggio Che gira su YouTube Ora siamo sulla macchina di Trevor Un Cornutissimo Mezzo Col fumo rosso Che ogni volta Che cammino Penso di aver investito Pedoni Invece no Quindi Ah ci abbiamo pure Una violenza Qui vicino Però dato che le ho fatte tutte Vabbè la rifacciamo Proprio perché A noi ci piace Finita A noi ci piace Non so se è italiano L'italiano non è che Soltanto bravo A quanto ho capito L'altro video ho detto Ci cerchiamo Quindi Allora Andiamo alla violenza Finita la violenza Chiudo il video Perché comunque Non so quanto ho girato Ma comunque poco Per dare il via A quest'altro Devi scendere Vabbè scendiamo Dov'è Dov'è Come si fa Sono sceso Ah ok Per dare il via Alla violenza Perfetto Violenza Vediamo quanti li ammazzo Ok Cambiamo a Solo queste Ma va bene Dai va bene Così Colpo alla testa Dove stanno Morite Stvonzi Stvonzi Ma sui tetti Sta sti camper Ci sono i camper Anche su GTA Ma st'arma Fa schifo Non c'ha manco Tanta gittata Nel mio giro Da combattimento Non potevano danno Oh Capriola Ricarica Violenza Violenza Dove state Figli di Baldracca Monelli Monelli Per citarmi Nello scorso video Da quello sul tetto F*** 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 Camper Guarda Tutti i camper Sono Capisco in un Dead match In multiplayer Ma al single player Ricamper No dai Cristo 38 uccisioni Dobbiamo arrivare Almeno almeno A 50 Se no non sono contento Ma sempre che arrivano 50 nemici C'è ancora Arriva la macchina Arriva la macchina E noi la ammazziamo Al volo Oh Zio Cos'è sto fuoco qua Ma muori Ma muori Anche tu Finiti Finito il tempo 52 Ecco Trevor Che sclera Uccidi Più di 45 Sei colpa alla testa E studi due veicoli Yeee Facchie ragazzi Funzione di salvataggio È stata terminata Va bene così Abbiamo fatto il nostro Cazzeggino Ci siamo divertiti Trevor È più arrabbiato che mai Io Vi saluto Vi do appuntamento Al prossimo video Che non so minimamente Quando sarà Purtroppo è un po' così Diciamo che Moriamo Dai moriamo a spregio Giusto per Per vedere Trevor Che soffre Ok Trevor Insanguinato Sembra che gli hanno fatto La magia di Harry Potter Sertum Sembra Bene Anche dopo aver fatto La battutina stupida E deficiente Su Harry Potter Io vi saluto E ci vediamo Ad un prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti